buongiorno buonasera in qualsiasi momento siate qui a godere di questo video meraviglioso destinato proprio a voi che avete deciso di supportare il progetto multimediale Undina Wavelet World l'ospite di oggi è un ospite speciale si chiama Patrizio Hermes Barbon è un medico è un ricercatore è il papà del percorso detox easy detox di cui abbiamo parlato nel corso di una rubrica inaugurata il mercoledì su questo canale e con lui ora tratteremo un argomento speciale che riguarda il nostro essere acquatici il nostro essere composti di particelle danzanti innanzitutto benvenuto Patrizio grazie allora noi siamo fatti di particelle che danzano anche se abbiamo l'illusione di essere materiali in realtà se noi potessimo avere un microscopio potentissimo e potessimo guardarci con questa modalità scopriamo di essere vuoti tra una particella danzante e l'altra e molte di queste particelle hanno a che vedere con l'acqua di cui siamo fatti per circa il 75% allora Patrizio io so che noi condividiamo un amore condividiamo l'amore la stima il rispetto per una persona che prima di noi ha scoperto che l'acqua di cui siamo fatti reagisce a determinati tipi di frequenze vibriamo a una certa frequenza i nostri cibi vibrano a una certa frequenza lo stesso dicasi per i nostri pensieri le parole che scegliamo di dire e di agire quindi cambiamo stazione radio a seconda di come ci poniamo nei riguardi della vita qual è il range di frequenze al quale dovremmo vibrare per essere sicuri di prevenire le malattie o addirittura per curare malattie già presenti? se me lo consenti Jasmine allora io dico che sono approdato a queste tematiche con il mio percorso il percorso di medico cioè di studiare la materia perché tutto ci viene proposto come materia però esistono delle realtà come la fisica quantistica che non studiano solo la materia ma anche le relazioni la comunicazione tutto quello che può essere vibrazione perché effettivamente come dicevi tu c'è un qualcosa che fluttua effettivamente per cui anche questo rientra nella nostra realtà e prima di dare delle indicazioni su questi range di frequenza condivido anche intanto delle immagini su questo comune diciamo papà che abbiamo sia io che te e cioè Masaru Emoto e parto da una prima considerazione che risale invece ad Einstein tutto è energia e questo è tutto quello che esiste sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà non c'è altra via questa non è filosofia è fisica quindi Masaru Emoto che vediamo qui in queste bellissime immagini ha riportato questo perché lui si è chiesto il 70% del nostro corpo delle nostre cellule è costituito di acqua perché guarda caso quella che viene chiamata terra al 70% è costituito di acqua e quindi l'acqua è il miglior decodificatore di queste vibrazioni di queste comunicazioni di questa trasmissione appunto di vibrazioni e quindi l'acqua ci fa capire che c'è un'importanza fondamentale anche Tesla diceva che le vibrazioni sono anche tutto quello che a noi serve per capire l'universo, la frequenza e quindi anche la vibrazione quindi vediamo come in queste bellissime immagini in cui cristallizzando l'acqua noi verifichiamo appunto questa che non è solo una teoria Masaru Emoto ha applicato anche quello che gli egizi avevano visto e cioè la radionica che l'acqua è un registratore naturale Ricordiamoci che esistono molte persone che hanno sperimentato questo Addirittura esisteva a Venezia un frate che aveva inventato il crono visore per cui padre Ernetti poi tutto come per Tesla è stato incamerato in cantine speciali che sono quelle si dice del Vaticano oppure della CIA però che danno questa realtà, quella che stiamo vedendo in queste immagini stupende tutto è unito, io non sono io, tu non sei te ma come diceva anche quel detto che spiegava appunto come effettivamente come diceva Galileo le cose sono unite da legami invisibili non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella per dare un ultimo fondamento scientifico si è recentemente scoperto il cosiddetto entanglement l'entanglement è la dimostrazione che c'è un intreccio, c'è una rete tra un corpo e un altro come dicevi tu il passaggio dell'aria dove se noi frazioniamo due elettroni ed è stato fatto e uno lo posizioniamo lì vicino a dove abiti tu, il bellissimo lago di Lugano e c'è precisamente a Ginevra dove c'è un anello di accelerazione nucleare particolare noi vediamo come se questo elettrone che è stato frazionato viene spostato da un campo magnetico il suo fratello, il suo corrispondente che gli è stato staccato e portato a Roma in un altro acceleratore si sposta anche lui quindi vediamo come effettivamente la scienza sta dimostrando una cosa incredibile quello che gli antichi chiamavano in la che cioè io sono te e tu sei me io sono anche la natura e la terra è la mia madre e noi siamo uniti cos'è che ci relaziona le vibrazioni ecco quindi questa premessa per dire il percorso che a livello scientifico a livello medico si può fare per arrivare a capire che una frequenza che come dicevamo è più consona alla nostra benessere è sicuramente una frequenza che è quella della generosità si parla di 95 hertz potrebbe essere però anche quella di un semplice grazie che supera i 45 hertz un grazie invece di cuore e Masaru Emoto ci ha spiegato bene ha sottolineato queste differenze sottili di sentito dentro può arrivare anche a 140 hertz che cosa può combattere per esempio un nemico comune che abbiamo in questi giorni e cioè effettivamente un virus come quello che ci sta minacciando non esiste solo questo ce ne sono tanti le vibrazioni tra le quali lui agisce questo esserino sono tra i 5,5 e i 14,5 hertz bassissimo Patrizio assolutamente sì però ricordiamoci che il dolore vibra tra 1 e 2 hertz quindi anche noi possiamo metterci in condizioni e udite udite la paura tra 0,2 e 2,2 quindi vedete che perché il nemico peggiore per la difesa dai virus è proprio la paura e quindi vivere questi momenti con quello che l'energia del chi diceva come l'equilibrio l'energia proprio degli antichi cinesi che avevano questo equilibrio questa centratura è molto importante saper gestire anche questa emozione paura che come abbiamo detto è legata ai reni e che noi andiamo ad affrontare e a trattare a modulare con l'isi detox cioè con dei percorsi di detossinazione Aspetta un attimo Patrizio mi stai dicendo praticamente che c'è una correlazione diretta tra le emozioni che proviamo e determinati organi del corpo è così? sì la medicina antica cinese stiamo parlando di 3.000 anni di saggezza aveva determinato lungo il colon io ho fatto degli studi tramite una tecnica che adesso si sta diffondendo molto anche qui da noi che si chiama idrocolontherapia e cioè lavarsi dentro, pulirsi dentro e vedere che cosa c'è in questo secondo cervello cioè l'intestino la parola intestino è composta da testina quindi una seconda testa in cioè dentro cioè abbiamo un secondo cervello dentro è costellata di collegamenti con gli organi l'ultima parte del colon è collegata il sigma è collegato con i remi e i remi i cinesi li identificavano come gli organi che modulano se sono in equilibrio anche problemi come le paure le ansie, le nevrosi, le psicosi e una problematica che si sta diffondendo Jasmine sempre di più che si chiama attacchi di panico sì ma potremmo proseguire la milza del pancreas è legata invece alla autostima alla mancanza di autostima allo stomaco al bisogno di affetto e al giudizio il fegato alle rabbie infatti un fegatoso un biglioso è soggetto ad impazienza e a rabbia quindi possiamo andare a paura dei fondamenti anche sulle malattie psicosomatiche perché noi ci ammaliamo anche per questo certo è un campo fantastico wow Patrizio la prima domanda che mi viene dall'ascoltarti perché ti ascolterei per ore ho sentito parlare anche io ultimamente della idrocolon terapia la mia domanda è proprio da persona qualunque che si approccia per la prima volta a questo argomento il percorso easy detox di cui tu sei papà può sostituire l'idrocolon terapia o sono due cose che possono essere fatte insieme? possono essere fatte insieme ma come dici tu io ho portato avanti questi studi per trovare un metodo per cui tutti possano fare una doccia interna senza dover trovare un bravo esecutore nel senso di consapevole che ha anche queste conoscenze della idrocolon terapia e hai proprio intuito qual è stata la mia ricerca e ho creato questo metodo che ho presentato all'Università di Padova e presenterò adesso all'Università di Torino e che ho presentato all'Expo Internazionale per la Nutrizione dei Popoli del 2015 a Milano e che da allora nel corso di quattro anni è stato eseguito da più di 60.000 persone con beneficio un metodo semplice che ognuno può fare a casa sua, al lavoro semplicemente nutriendosi e cibandosi di prodotti nutraceutici che derivano dalla natura, frutto della natura ok Patrizio, allora abbiamo parlato del percorso Easy Detox di cui hai la paternità che è una tua creazione a questo punto la mia domanda è se noi ci laviamo dentro e questo percorso detossinante può sostituire l'idrocolon terapia che magari può spaventare qualcuno perché insomma è comunque una diciamo un procedimento meccanico che può insomma mettere non tanto a proprio agio una persona se io mi pulisco internamente e i miei organi vengono in qualche modo a trovarsi in una condizione di reset a riposo perché da quello che ci hai detto anche in una puntata dedicata proprio al Easy Detox questo percorso è un mima digiuno, cioè il nostro organismo lo percepisce come un digiuno ad acqua vero e proprio, quindi resetta le funzioni dell'organismo resetta il funzionamento degli organi e tutto il corpo canta e gioisce a questo punto tu mi dici che arrivata alla fine del percorso resettata organicamente anche le mie emozioni subiscono un reset e quindi se io prima soffrivo di che ne so irascibilità legata al fegato o rispetto ai reni ero spaventata dalla situazione contingente in questo modo posso imparare anche a gestire le mie emozioni quindi vibrare a una frequenza più alta portando il mio sistema immunitario a essere più forte? assolutamente sì, perché la vita è un percorso, è un cammino e quindi ci dà il là per iniziare un cammino di consapevolezza scoprendo che abbiamo dentro il nostro corpo delle energie incredibili adesso la scienza sta ponendo le basi su quello che stiamo dicendo e si chiama microbiome revolution negli ultimi dieci anni sono esplosi gli studi sul microbiota cioè queste cellule che sono dentro di noi ma che non fanno parte del nostro corpo ma di alcuni ospiti, amici che abbiamo dentro batteri, virus buoni, nostri amici quelli che non permettono a quelli cattivi di entrare se li trattiamo bene quelli dentro di noi eucarioti, prokarioti, miceti, cioè funghi cioè è una serie di esserini che noi da quando siamo presenti su questo pianeta ci portiamo dentro e che lavorano per noi uno dei compiti maggiori che hanno, Jasmine, è proprio quello di modulare il sistema immunitario cioè sono loro che dicono al sistema immunitario che cosa deve fare in certe situazioni però loro lo fanno se sono in neubiosi cioè se noi li mettiamo in una condizione di vivere bene di essere ben nutriti, di essere coccolati quindi se li vogliamo bene se invece non facciamo attività fisica abbiamo cattivi pensieri ci nutriamo di junk food o ci nutriamo male e se facciamo tutte queste cose e ci nutriamo poi di stress creiamo invece una condizione per lo sviluppo della disbiosi cioè di quelli che invece non lavorano proprio bene per la nostra salute il segreto è tutto qui e la scienza lo sta dimostrando tutte le malattie compreso l'autismo, il Parkinson, l'Alzheimer, la depressione tutte le malattie sono legate al nostro microbiota addirittura si sta scoprendo che il microbiota è in grado di cambiare il nostro gruppo sanguigno sono tutti studi scientifici reperibili facilmente su PubMed o su Google ma sai perché sorrido Patrizio? beh innanzitutto il fatto di cambiare gruppo sanguigno mi sembra una cosa veramente cioè che esce da ogni tipo di pensiero a cui siamo abituati poi penso a quando noi una volta andavamo in farmacia a prendere le bustine per integrare la cosiddetta flora batterica intestinale in realtà quelle bustine servivano a questo cioè a inserire nel nostro organismo un po' di più di quegli esserini corretto Patrizio? era quello quelli erano i primi passi ecco adesso stiamo facendo un passo fondamentale dal probiotico cioè quelli che hai nominato tu al prebiotico cioè se io nutro bene, tengo pulito, lavo il mio corpo, gli faccio la doccia interna posso andare a nutrire quelli buoni uno dei prebiotici più famosi è l'acee mannano un polisaccaride, un componente del gel di aloe ecco perché noi utilizziamo nel nostro Easy Detox abbondante gel di aloe perché nutre il nostro ospite privilegiato c'è un detto molto bello che dice quando ti siedi a tavola occupati prima del tuo ospite qual è il tuo ospite nobile, il migliore? il tuo microbiota quindi mangia vegetale, integrale non usare sostanze nocive, chimiche ma non solo per il tuo corpo, le tue cellule ma per le cellule del microbiota perché ricordiamoci che noi siamo dei super organismi siamo degli olobionti cioè abbiamo una presenza di microbiota che è dieci volte più numerosa delle nostre cellule cioè io non sono solo io e un po' questo ci ricorda le teorie di cui abbiamo parlato quando effettivamente l'inlachè dice io sono te, tu sei me io sono natura la terra è mia madre perché il microbiota c'è anche nel terreno negli animali c'è ovunque ricordatevi che gli studi le ricerche sugli ominidi cioè le presenze più antiche dell'essere umano sulla terra risalgono dagli studi dalle reperti che si sono trovati gli scheletri più antichi sulla terra sono stati trovati in Sudafrica e risalgono a 6 milioni di anni fa circa il microbiota invece è comparso sulla terra Jasmine 4 miliardi e mezzo di anni fa quindi sono molto più saggi di noi sono molto più importanti e sono determinanti per la nostra sopravvivenza senza microbiota noi non sopravviveremmo ma il superamento che abbiamo fatto il passo ulteriore è che non c'è solo nell'intestino la flora intestinale ma noi il microbiota ce l'abbiamo ovunque ce l'abbiamo sulla pelle negli organi genitali ce l'abbiamo addirittura nel cervello si sta scoprendo che è presente già nel liquido amniotico e quindi tutti gli studi si stanno orientando verso il microbiota perché gli antibiotici ahimè stanno scomparendo e quindi anche la scienza ha capito che deve tornare all'origine alla natura pensa che i cinesi nell'antica Cina facevano già il trapianto di microbiota e come fa un bambino ad avere questo microbiota lo eredita quindi nel liquido amniotico già entra nel suo corpicino da prima della sua nascita questo non è ancora stato dimostrato ma sicuramente noi sappiamo che al momento della nascita e parliamo della nascita come mamma natura la voluta cioè la passaggio attraverso il canale uterino non solo questo passaggio determina delle si chiamano è come una digitopressione è uno start è un punto di partenza ci sono dei point che vengono toccati e il bambino parte con la sua vita autonoma ma anche c'è un passaggio dei primi gerbi pensate che le ostetriche quando i medici hanno inventato il parto cesareo e l'hanno maggiormente utilizzato utilizzavano delle garze le ponevano sulla parte genitale della mamma subito dopo il parto e le appoggiavano sulla pelle del nascituro e i medici si chiedevano perché ma era un'antica usanza era una cosa tramandata perché andavano a recuperare quel microbiota che non era passato con il parto perché non era stato naturale l'allattamento porta al passaggio di altri microbioti interessantissimi e poi via via sempre più più io mentre parlavi immaginavo anche me nel mio percorso attorale e mi ricordo molto bene che quando dovevo provare delle emozioni potevo agire a livello fisico sui movimenti sulla mia postura sulla mia fisiologia quindi il ritmo del respiro e la posizione del mio corpo a quanto pare a generare le emozioni giuste al momento giusto c'è non solo il movimento fisico del nostro organismo ma anche lo stato in cui si trova a livello organico e questo è magico è bellissimo la mia domanda a questo punto per te è se c'è una correlazione diretta tra lo stato di salute dei nostri organi e le emozioni allora vuoi dirmi che una persona sana che prova emozioni non altamente vibranti può al contrario purtroppo influenzare i propri organi non positivamente quindi avviene anche in senso inverso il processo uno degli elementi del concept easy detox è anche il pensiero positivo ecco perché noi abbiamo inventato il metodo dello sharing cioè della condivisione perché noi siamo qui su questo pianeta tutti insieme e c'è un valore in questo il rapporto reciproco anche se in questo momento guarda caso ci viene negato ci viene combattuto questa implementazione tra di noi ma gli organi sono importanti per questo come dicevo prima la rabbia vibra su 1,4 hertz l'orgoglio 0,8 la superiorità l'ego 1,5, 1,9 l'abbandono 1,5 facciamo un raffronto invece dicevamo prima la generosità 95 hertz ma la compassione che è una e la vera passione con 150 hertz l'amore va da 50 hertz in quello diciamo più comune e poi l'amore con una che una persona genera con il suo cuore 150 ma attenzione Jasmine l'amore incondizionato quello universale 205 hertz e oltre e il virus tanto per rimanere su un esempio pratico di questo di questi tempi muore a 25 hertz quindi vedete come potremmo veramente agire anche con delle modalità che tu hai riferito ma voglio aggiungere una cosa perché vedete che io cerco sempre di avere un piede su questa ricerca che è quella diciamo universale no umana mentre invece tengo anche un piede sulla scienza perché mi viene richiesto anche di dare conferma un altro simpatico giapponese si chiama Yoshinori Osumi ha preso il premio Nobel nel 2016 per la medicina perché ha confermato che le cellule si resettano cioè completano questo meccanismo di beneficio di salute di benessere e annientano i germi di patologia quindi un attacco di un virus piuttosto che una patologia degenerativa della cellula se vengono messe in una condizione particolare e lui ha trovato che il meccanismo che genera questo è la fame il digiuno noi sappiamo che i nostri progenitori hanno patito tutti la fame siamo noi adesso che stiamo sperimentando l'abbondanza la necessità però abbiamo comunque un imprinting ancora cellulare abbiamo ancora un codice cellulare che si risveglia facendo dei percorsi detossinanti quelli che come tu hai detto scienziati come Walter Longo che ho conosciuto personalmente piuttosto che Colin Campbell definiscono invece essere dei percorsi di simulazione del digiuno quindi non è più neanche necessario fare dei digiuni io ho fatto delle esperienze personali di digiuno totale ad acqua per vari giorni e ho visto che c'è questo effetto però mi sono messo a studiare delle modalità semplici per tutti che uno può fare anche se è uno sportivo e le ho applicate anche a grandi sportive quindi vedete che ci sono dei fondamenti scientifici come un premio Nobel addirittura di pochi anni fa che meraviglia Patrizio starei ad ascoltarti per ore io so solo una cosa che è nata questa sinergia con te con Luisa il progetto di Ondina e mi rendo conto sempre di più di come proprio grazie al vibrare alle stesse frequenze ci siamo in qualche modo attratti incontrati perché il messaggio del mio progetto ha a che vedere con le belle parole e con la consapevolezza che le parole hanno un effetto sulla nostra vita sulla nostra vibrazione qui ci occupiamo di prenderci cura dei nostri organi e dire sai che c'è mi sono intossicato finora mangiando junk food cedendo all'impulso di reagire a determinate circostanze provando delle emozioni non esattamente positive ho usato delle parole che non erano il massimo della bellezza ora possiamo veramente decidere di resettarci di ripartire da qui iniziando un bel digiuno non digiuno quindi le persone che hanno tra virgolette magari il timore di dire ottio cambierà completamente la mia vita no in realtà andiamo ad assumere dei nutraceutici tu mi confermi Patrizio ci confermi che nei prodotti che useremo durante questo percorso sono contenute tutte le cose tutti i principi nutritivi che servono al nostro organismo per questi nove giorni il fondamento la base come dicevo è l'aloe noi potremmo sopravvivere di aloe perché effettivamente a popoli antichi lo utilizzavano io ho scelto un aloe molto particolare perché ne esistono tanti con coltivazioni nell'emisfero sud della terra quindi meno inquinato che vado a visitare spesso perché sono in Santo Domingo piuttosto che in Messico in altre aree tropicali simili e lì abbiamo proprio tutti gli elementi che ci possono servire e quindi è come fare un un reset come fare un tagliando ogni tanto quindi io capisco tutti noi siamo presi un po' dal correre no? però questa è una cosa per tutti anche per chi si tratta male anche per chi non ha tempo perché sono nove giorni più uno di preparazione quindi una decina di giorni dico sempre non sono dieci mesi non sono dieci settimane sono solo dieci giorni quindi alla fine possiamo dire di avere aperto un campo di infinite possibilità dove scegliere consapevolmente la via maestra per accedere a una vibrazione così alta che niente potrà più scalfirci a meno che non siamo noi consapevolmente a desiderarlo ma chi potrebbe mai volere non il proprio bene è ovvio che se siamo qui vogliamo il bene nostro e il bene di coloro che amiamo Patrizio ti ringrazio per questa tua partecipazione a questo speciale destinato alle persone che supportano il progetto e credono come noi che sia possibile a prescindere dalla nostra età a prescindere dalle nostre abitudini pregresse a prescindere da tutto possiamo in ogni momento decidere per il nostro bene di resettare le nostre abitudini alimentari le nostre abitudini di pensiero le nostre abitudini verbali e davvero dare una svolta significativa alla nostra vita che è questo il senso per cui siamo qui capire chi siamo davvero capire qual è il nostro scopo qui su questo pianeta ascoltare il messaggio che il nostro corpo che sa molte cose ci manda per poterlo verbalizzare e benedire il mondo con la nostra presenza quindi è meraviglioso tutto questo senti posso leggerti per chiudere la mia presenza una frase che mi ha un po' colpito e che ho riscoperto in questa preparazione ed è di Giordano Bruno sì che ci piaccia o no siamo noi la causa di noi stessi nascendo in questo mondo cadiamo nell'illusione dei sensi crediamo a ciò che appare allora ci assale la paura e dimentichiamo che siamo divini che possiamo modificare il corso degli eventi e qui ho ritrovato quella pulsione no quella cosa che mi ha portato dopo la laurea a continuare a continuare a ricercare a non essere solo assuefato soddisfatto di quello che quel tipo di lavoro mi dava e quindi arrivare poi a creare Easy Detox e quindi credo che nel nostro piccolo noi stiamo muovendo un qualcosa di vibrazionale di importante molto importante in direzione di un risveglio planetario che è questo alla fine ciò che auspichiamo Patrizio ancora grazie grazie a te grazie a tutti i tuoi ascoltatori sappi che per te la porta è sempre aperta quindi qualora tu avessi un aggiornamento da darci puoi tornare e raccontarci la tua esperienza ciao Patrizio grazie grazie e a tutti voi ciao eroi a presto